. 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 non è salvatore. Non è salvatore. Non è salvatore. Ci spaziò. C'è urbano da nessuno. Rai camera. C'è l'õdea, Riosarium. E va? C'è l'õdea, ma che nemmeno da creerì so. B blacks li risalla. C'è il nome, si pieta, non lì in alla, che lì da lì battleso bilispieto ta Christo. Ghe chiede. Biss piercu ta vitma pronti bis l'hallu hajitna basta ma n'amlu zhnub pronti bis l'hallu hajitek bis matamiz d'akil zhnub I dhe meieġ jajza kijwa t'guli jjwa ijwa nna paroli ma metatidj il-prova, il-provii i-expużilu l-briede mruhkwi Metatidj il-prova, gha'le kuqt il-provii azzami na uruhkwum Uwdejt i mw, rarta spes ut arbin Rarta spes ut arbin Min maj e spes summa maj it arbin spes ut elezis l'abba, l'pericolabile anche la soluzione l'assassà l'assassà per l'uxto e il vettico l'aprova l'entrì combattita e l'orazione è un valore e l'abbonità che si è un'amnita nell'arbo l'arbo e l'arbo l'arbo e l'arbo l'arbo e l'arbo l'arbo Alla domanda, signora Ghalil, non sono un po' di, non lo so. Non lo so come l'uomo, non lo so come l'uomo, non lo so come. Non lo so come l'uomo che si sta l'uomo. Grazie a tutti.